Presidente, ancora pochi giorni fa lei ha detto se sbaglio sull'utilizzo del Recovery Fund andatemi a casa. No, signor Presidente, non è così. Se si fallisce il compito che abbiamo di fronte nei pochi mesi ormai che ci separano dalla precisa definizione delle misure da presentare in Europa, non va a casa solo lei. Andiamo a casa tutti. Perché in quel caso il danno per il Paese sarebbe immenso e lo pagheremmo tutti per anni a venire. Semplicemente non ce lo possiamo permettere. Questa convinzione, sperata ogni nostra posizione nei mesi del Covid, è tempo di azione comune oppure non sarà un'azione efficace.